Dov'è Leonardo nell'ultima cena? È presente? È presente? Andiamo a vedere. C'è un personaggio che è stato identificato essere l'autoritratto di Leonardo, cioè come facevano i grandi maestri. L'ho fatto Michelangelo, l'ho fatto Raffaello, Caravaggio, Botticelli e l'ho fatto anche Leonardo, più volte. E questo apostolo sembra essere proprio Leonardo. Allora, così dice anche la guida ufficiale che accompagna all'interno del refettorio di Santa Maria delle Grazie a Milano. Spiega che quello è Leonardo, forse un po' invecchiato perché era più giovane ai tempi in cui dipingeva il Cenacolo, ma questo è facile per un pittore. Ci sono allora, se quello è Leonardo, delle cose da analizzare, proprio su quel personaggio, perché è l'unico che andiamo a vedere sotto al tavolo, sotto al tavolo, quel personaggio sta facendo piedino, cioè un piedino all'altro apostolo. Quindi a sottolineare un segreto, un qualcosa che non si può dire, anche malizioso. Sì, un piedino, andiamo a vedere, è rimasto questa traccia, questa cosa. E quindi questa cosa può essere anche addirittura valorata e potenziata da un dettaglio che è proprio lì a capotavola. Cioè, nella tovaglia c'è un nodo, ma cosa vuol dire un nodo alla tovaglia? Non vuol dire nulla. Ma perché un pittore si mette a dipingere un nodo? Il nodo è la firma di Leonardo, è il sigillo di Leonardo, perché dal latino nodo si dice vinculum, vinculum riporta a Vinci, Leonardo da Vinci. Quindi un legame, un segreto, un vincolo. Quindi c'è qualcosa che non si può dire. Si gesticola tanto a questa tavola, si dice tanto con linguaggio non verbale, ma anche con i piedi. E, attenzione, perché non è un dettaglio da poco. Perché se sotto a Leonardo c'è un piedino, perché proprio sotto a Gesù, San Giovanni, Maddalena, Salai, è stato tolto, è stato devastato proprio quel punto, da una porta estremamente grande, larga, inopportuna. Ed è stata fatta quando il dipinto era appena stato realizzato. Non duecento anni dopo, come dicono alcuni testi. Ci sono prove documentarie che il dipinto è stato devastato subito, nel 1499. Praticamente era ancora fresco. E i frati hanno sentito l'esigenza di devastare, i domenicani, di devastare questa parte del dipinto, aprendo una porta, perché le pietanze si sarebbero raffreddate dalla cucina al refettorio. Ma la porta c'era già, quindi i tempi secondi erano quelli di consegna delle pietanze alla tavola. Un dipinto meraviglioso che doveva essere qualcosa da brivido, da urlo, ma che probabilmente nasconde troppi segreti. Un dipinto eretico, un dipinto blasfemo, un dipinto che mette alla tavola di Gesù, all'ultima cena, probabilmente una donna e tanto altro. Ma non sapremmo mai cosa c'era sotto al tavolo, anche se delle copie esistono, ma sono copie edulcorate, copie che non sono state fatte guardando il dipinto intatto. Questo perché è stata fatta subito l'apertura. E allora può venire il dubbio che anche il fatto che sia stato cancellato completamente sia stato un intervento molto tempestivo, subitaneo, cioè appena la pittura finita o fresca, appena il maestro se n'è andato, frati si sono dati da fare. Questa è solo una storia supposta, che però fa vedere un punto di vista diverso. Ma c'è di più. Perché proprio Leonardo e il suo compagno di fianco, che sembra essere proprio un Salai, anche lui diventato adulto ormai. Guardate, questo personaggio di profilo, andate a vedere i ritrati di Salai, è identico al Salai adulto. Non al Salai bambino ragazzino, adolescente. Al Salai adulto. E guardate, solo Gesù e Salai sono quelli che alla tavola dell'ultima cena danno le spalle a Gesù. Secondo gli storici, prendono il ruolo di questa posizione, era tipica del commentatore, cioè un ruolo da commentatore. Ma questa cosa accade più volte nei dipinti di Leonardo, anche nell'adorazione dei magi. C'è sempre Leonardo che dà le spalle a Gesù. Perché? Cosa sapeva? Cosa voleva dirci? Piedini biblici a parte. Grazie. Grazie.